Mamma mia, ma che cazzo abbiamo visto stasera? Bentornati a questo nuovissimo video. Intanto iscrivetevi che è fondamentale per il canale, ma subito, manda le ciance, Georgia-Portogallo, passa la Georgia, e qua ancora Ervate, che è una azzeccata un'altra, mamma mia ragazzi, Georgia che va a passare il turno, clamorosamente se devi dire, perché in un girone con Turchia e Repubblica cieca non era per niente scontato, ma Ervate, oltre che aveva detto che passavano come terzi, non ricordo se ho detto che passavano come terzi, però ho detto che arrivavano terzi, ma Ervate, vi ha detto pure che il Portogallo perdeva. Ma chi è? Ma chi sono? Porco Giuda, ma era palese, perché il Portogallo giocava con le palle all'aria, comunque oltre questo, Vara la sblocca al secondo minuto, subito all'avvio, forse uno dei gol più veloci degli europei, dopo vabbè quello che abbiamo servito noi da coglioni con Di Marco, ma comunque oltre questo va subito erroraccio, filtrante, fantastico, la mica Otazze in bellissimo contropiede, valla il pallone per Farazzchelia con Antonio Silva, che stasera ha fatto i disastri, stasera ha veramente fatto dei disastri allucinanti Antonio Silva, ma comunque intanto che sto cercando il tabellone, perché poi andiamo a commentare anche le squadre che beccheranno, comunque oltre questo la Georgia passa subito in vantaggio, ha avuto qualche occasione il Portogallo al 55esimo, però arriva ragazzi Antonio Silva, ervate l'Antonio Silva, colpisce ancora, perché si era palesemente giocato l'uno della Georgia, e probabilmente pure o per uno e mezzo, infatti fa due stronzate, non vedrà più il campo, mi auguro, per questi europei, ma comunque oltre questo ragazzi la va a sbloccare, cioè la va a sbloccare, dal penalty, non so perché mi è venuto, la va a sbloccare, va un fallaggio, un fallaggio, un fallo, si lascia un pochino andare il giocatore a Georgia, ma comunque è fallo, è calcio di rigore per la Georgia, che lo va a trasformare, fa due a zero, mi cautalse il bomber di questo europeo del 2024, ma mi è venuto il paragone di questi europei, l'Islanda, cioè la Georgia, scusate, la nuova Islanda del 2016, cosa faceva l'Islanda? Fece cinque punti nel girone, la Georgia ne fece quattro, nel girone avevamo pure lo stesso Portogallo, ma oltre questo comunque, vabbè, quel Portogallo che passo il girone clamorosamente vincendo nessuna partita, ne aveva vita, cioè nei 90 minuti penso che ne abbia vita solo quella col Galles, le altre tutte finite o ai rigori o ai supplementari, ma comunque oltre questo, lasciamo stare questo. Passò il turno l'Islanda, riuscì a sconfiggere pure l'Inghilterra e arrivò ai quarti dove però finì 5-2 per la Francia, che arrivò successivamente in finale, proprio con lo stesso Portogallo, ma comunque questa Georgia è una favola, è una Georgia che comunque ha qualche giocatore buono. Mi cautalse, ragazzi, faiatevi, mi cautalse ha fatto una grande stagione, oltre questo fidatevi che adesso con questo europeo, mi cautalse farà molto, molto di più, e secondo me una squadra di conference, di Europa League, tra Italia, Bundesliga, Liga, può veramente fare bene. Cioè, tipo, mi è venuto il paragone. Qualora partisse Dovbic al Girona, io mi cautalse e ce lo prenderei. Comunque oggi grandissima partita, sia sua che anche di Kfaraskele, che per ora non mi aveva molto convinto, però oggi ha veramente giocato bene. Mi cautalse, il classico 2000. A parte che, vabbè, sembrava tutti che c'hanno più anni, a parte Kfaraskele, che è l'unico che forse dimostra l'età che ha di quei georgiani, mi cautalse sembra 98, no, non 98, 89. Cioè, sembra che c'ha almeno 30 anni, invece ne ha solo 23. E in prestito dall'Ajax, questo ultimo particolare mi mancava, però. Naturalizzato dal francese alla Georgia, ma pare, beh, penso che sia abbastanza falese che sia solamente nato in Francia. Ma resta il fatto, ragazzi, che il Portogallo perde contro la Georgia. Io sono contento, perché io, sapete che tipo Portogallo, oltre che Italia, però comunque volevo che passassi il turno onestamente la Georgia, oltre che per azzeccare, che vabbè, quello è un gioco, azzeccare i pronostici, mandatemi in DM su Instagram, calciopuro, se volete qualche pronostico, ma oltre quello, perché semplicemente volevo la Georgia agli ottavi, però spero che non abbia ricadute mentali sulla squadra, però mi auguro di no. Si sono mangiati qualche occasione, agli ultimi secondi, al 91esimo, tipo, si è manzata una. Non ricordo se Nelson Semedo, che mi è venuto così, ma non mi ricordo se fosse lui, o Diogo Giota su un cross pennellato. E il mio Marta Schvili, comunque questa partita è un falliere, il mio Marta Schvili è un altro grandissimo portiere. Penso che partirà, mi pare di aver letto che c'è già il suo sostituto ufficialmente. Penso che partirà, ma che comunque è veramente un grande giocatore. E comunque, ragazzi, la Georgia va contro la Spagna, il Portogallo va contro la Slovenia. Io non dico niente, farò i miei pronostici e andrò anche a parlarvi proprio di queste ottavi, farò tra virgolette una guida a queste ottavi di finale. Ma intanto io, ragazzi, vi lascio con la Georgia, iscrivetevi anche al secondo canale Calciopuro2, dove uscirà Copa America, adesso partite gli europei, adesso che ci sono due giorni di break, probabilmente magari potrebbe uscire Calciomercato, sia qua che sul secondo canale. Ma io, ragazzi, comunque vi saluto. Noi ci vediamo, ragazzi, domani con nuovi video, dove non lo so neanche io, mi venderò qualcosa. Bella!